Non è stato semplice, come hai detto tu, aprire la manifestazione, abbiamo forse pagato un po' lo scotto dell'emozione, ci sono tante compagne mie che sono giovani, quindi magari non sono abituate a disputare un certo tipo di partite, sapevamo che sarebbe stata dura, io credo di avere ben poco da rinforzare a noi, alle mie ragazze, alle mie compagnie, perché ci abbiamo messo tutta fino alla fine, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, già stiamo pensando la partita di domani per ricominciare e siamo molto fiduciosi di poter fare bene. Siamo molto contenti della vittoria, ma sicuramente non dobbiamo perdere la testa e montarci la testa soprattutto, continuare così e continuare a giocare allo stesso modo di oggi e magari mantenendo comunque anche le stesse forze di oggi nella stessa squadra. Ma sicuramente dovremo riposarci per la partita di domani perché non sarà semplice, anche se la squadra non la conosco e non la conosciamo benissimo, e dobbiamo riuscire a giocare di squadra, comunque anche meglio di oggi.